Se volessi esprimermi paradossalmente, direi che Caporetto è stata una vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta per l'Italia. Senza paradossi si può dire che Caporetto ci ha fatto bene e Vittorio Veneto del male, che Caporetto ci ha innalzati e Vittorio Veneto ci ha abbassati, perché ci si fa grandi resistendo ad una sventura ed espiando le proprie colpe e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i cattivi istinti per il fatto di vincere. Giuseppe Prezzolini dopo Caporetto La citazione di Prezzolini in apertura del libro si imponeva, perché, insomma, troppo facile oggi dire che Caporetto in fondo non è stata una sconfitta perché poi noi abbiamo vinto la guerra e quindi tutto sommato ci siamo ripresi. Prezzolini capovolge il ragionamento. Caporetto sarebbe stata una vittoria se non l'avessimo vinta la guerra, perché allora ci sarebbe rimasta l'idea che avevamo sbagliato molto, che il paese aveva dei grossi difetti e doveva correggerli. Invece Caporetto è stata positiva per l'Italia per un breve periodo, fino a quando, cioè, le cose non hanno cominciato ad andare bene e allora, come succede da noi, in quei casi ci si monta la testa e si dimenticano tutte quelle belle cose che avremmo dovuto imparare. Prigionieri austriaci circa 23.000. Di fronte a questi buoni risultati, la spesa nostra è stata di circa 70.000 tra morti e feriti e di circa 750.000 colpi di medio e grosso calibro spesi. Si trattava, come si vede, di una spesa. Parlare di Caporetto e trarre delle conclusioni, io penso che è molto più complessa la cosa. È troppo facile dire che in fondo non è stata una sconfitta Caporetto, perché grazie a questa sconfitta poi ci siamo ripresi, abbiamo trovato il piave, morborò, non passa lo straniero. Sì, ma col senno di poi, cioè, sarebbe stato meglio che non ci fosse stata la sconfitta, no? Che non ci fossero stati tutte quelle migliaia di morti, quel disastro umano, quell'abominio. E quindi il bello del libro è che ti dice è accaduto così, perché sennò uno ha sempre la possibilità di redimere la storia in qualche modo. Io sono convinto che la storia è un accumulo di rovine e noi non possiamo che guardare questo accumulo di rovine. Caporetto non è una sconfitta qualunque, non è una battaglia perduta, fratante, di una guerra che poi alla fine abbiamo vinto. Caporetto è una catastrofe nazionale che mette in luce i grossi limiti dello Stato, dell'esercito, della classe dirigente italiana soprattutto. Per un breve momento, a suo tempo, abbiamo imparato a ragionarci su quei limiti, ma poi ce li siamo dimenticati subito. Il popolo, continuando a dire è stata una caporetto, ha manifestato, come dire, più memoria storica rispetto alla classe dirigente e agli intellettuali. Il vero ci restituisce una follia dei comandi, la follia delle gerarchie, che invece di solito non viene toccata da questi altri libri. Noi sappiamo Uomini contro, vediamo Gian Maria Volontè al cinema che fa la rivolta di quelli che non ce la fanno più ed è reale, però poi sopra le colpe, la distribuzione delle responsabilità non viene mai studiata, neanche a scuola. Sì, si dice che non è andata bene, che forse Cadorna ha sbagliato, non è un forse. All'inizio fa lo scenario come se stessi su un pallone in alto nel cielo, in alto, molto in alto, però non un aereo, c'è un posto, una mongolfiera, e lì vedi, e lì ti fa per i primi due grossi blocchi di come è schierato l'esercito italiano e come è schierato quello tedesco, chi sono i comandi tedeschi e chi sono i comandi italiani, quindi hai come una visione d'insieme che è strepitosa, cioè un panoramico, uno sguardo molto largo. Si rispettavano a vicenda e non andavano né avanti né indietro, ebbene quel giorno l'esercito italiano si è trovato di fronte a un esercito che giocava in un'altra serie, si è trovato di fronte al miglior esercito del mondo, allora, quello tedesco, e benché lo sapessimo che arrivavano i tedeschi, nessuno sapeva cosa avrebbe voluto dire combattere contro un esercito che la guerra la sapeva fare appunto in un altro modo. Poi è come se questa telecamera possibile, diciamo, cominciasse a entrare nel merito del singolo comandante italiano, del singolo comandante tedesco, e poi via via comincia la storia, cominciano la storia fatta di piccole tappe, però, no? È bello che è minuziosa la dispatta, e quindi leggi pezzo per pezzo cosa succede, e ogni pezzo che succede, sapendo che Caporetto è stata una disfatta, tu però capisci tutti gli errori via via, gli errori di prospettiva, non aver capito che sarebbero entrati in quel fronte lì, ma soprattutto tutti i disastri delle gerarchie, cioè capisci proprio un sistema folle che ancora resta nella nostra cultura italiana, cioè quando uno dice la burocrazia che ti impedisce di fare le cose, ma era già allora. Io mi sono appassionato alla battaglia di Caporetto come in passato mi è capitato di appassionarmi alla battaglia di Waterloo, essendo un grande ammiratorio di Napoleone, e come mi è capitato di studiare alla battaglia di Lepanto avendo un grande interesse e ammirazione per l'impero ottomano. In altre parole, per qualche ragione misteriosa, a me interessano le sconfitte. Trovo che dalle sconfitte si impara molto di più che non dalle vittorie. Intanto nelle sconfitte c'è un pathos evidente, perché teniamo conto che una battaglia è sempre un momento in cui tutte le energie di una nazione, di uno stato, di un esercito sono impegnate allo stremo con sacrifici spaventosi per vincere, e poi invece si perde. Ecco, già questo dà alle sconfitte un qualcosa di tragedia greca che le vittorie non hanno. Dopodiché le sconfitte appunto mettono a nudo le reazioni umane, ed è quella la cosa più interessante quando si studia la storia. Sì, sono appassionato di storia soprattutto di questo periodo perché a me è capitato di... per tre anni ho fatto gli spettacoli teatrali sui forti del Trentino, finanziati dal Museo della Guerra di Rovereto, dove abbiamo messo in scena le storie dei soldati della Prima Guerra Mondiale trovate su tacuini, librettini, quaderni, scritti a... cioè, una scrittura dal basso, rozza, non letteraria, ma strepitosa. La Prima Guerra Mondiale è stato l'inizio della catastrofe del Novecento. Cioè, è stata la prima volta che a livello di massa gli uomini non erano più uomini, ma numeri. Non era mai successo questo nelle guerre di prima. Non erano più individui, erano numeri. E quindi è l'anticipo dell'olocausto tedesco. È una strana esperienza per un autore sentir leggere le proprie cose da un altro. A dire la verità, a me succede spessissimo di sentir leggere qualche riga o una pagina di una mia cosa, perché quando si fanno incontri pubblici spesso gli organizzatori hanno la pessima idea di chiamare un attore per leggere un brano. Normalmente la mia reazione in quei casi è di dire avrei letto molto meglio io perché hanno chiamato lui. Nel caso di Marco Valiani non posso dire questo. Marco ha letto meravigliosamente e tuttavia mi è rimasto il rimpianto di non averlo fatto io. La lettura di Caporetto è stata micidiale nel senso che non solo la quantità delle pagine ma la quantità degli argomenti trattati tutti con un'eccezionale rigore. Per cui era molto difficile. C'erano dei momenti assolutamente discorsivi, quasi narrativi perché riportavano frasi dette da un soldato piuttosto che da Ardengo Soffici o Gadda e quindi quelli volavano. Poi subito dopo c'erano pagine tecniche molto precise che tra l'altro ti fanno capire veramente che cosa è successo. Un modo di guardare la guerra in un modo che non si è mai io non sapevo nulla di Caporetto trattata così. E però era difficilissimo il passaggio tra diciamo la cronaca il resoconto la precisione dei fatti degli avvenimenti e poi tutta la sequenza dei dati cioè quante armate quanti carri armati quante 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 tutte queste cose qua e insomma è stata faticosa devo dire no veramente è stato molto faticoso è stato molto contento di esserci riuscito cioè avevo sulle spalle tutta la storia la storia vuole essere un riusco la differenza fra l'esperienza di un libro letto e l'esperienza di un libro ascoltato è una cosa su cui secondo me non abbiamo ancora riflettuto abbastanza è vero che per millenni l'umanità ha sempre soltanto ascoltato e che chi era mi pare Sant'Agostino che una volta vedendo San Gerolamo che leggeva e non si sentiva niente ad alta voce è rimasto stupitissimo perché ancora a quei tempi era normale che quando si leggeva si leggeva ad alta voce anche se io leggevo da solo leggevo ad alta voce per ascoltarmi oggi non è più così e io credo che ci siano libri e capitoli di libri che si prestano molto bene a essere ascoltati e altri che si prestano meno in vita mia ho scritto libri dove l'unica cosa che contava era come dire lo stile travolgente coinvolgente libri così possono essere letti ad alta voce e non perdono niente e ho scritto libri complessi che invece richiedono la decifrazione l'intelligenza del lettore che sta sulla pagina e si ferma quando è necessario Caporetto è un ibrido nel senso che io so che ci sono capitoli che sono complessi impegnativi una battaglia della prima guerra mondiale è un evento di una complessità tale che non si può raccontarlo e analizzarlo senza dare cifre per esempio ecco tutto questo io sono abbastanza sicuro che letto a voce alta sia più difficile da seguire quindi sarà una bella battaglia affrontare certi capitoli per gli ascoltatori il modo di scrivere di Berbero secondo me è un modo se posso dirlo quasi brechtiano cioè in che senso nel senso che lui vuole sempre che il lettore quindi l'ascoltatore abbia coscienza di quello che sta succedendo quindi non è mai empatico non c'è nulla di emotivamente che ti costringe sì ci sono dei momenti che capisci che ti commuovi però sono molto piccoli cioè non punta a quello cioè non punta a una facile emotività quindi penso che chi ascolta è più colpito dal comprendere cosa sta sedendo oltre che sentirlo cioè il sentire c'è ma prevale il comprendere e quindi c'è una razionalità di fondo che guida il tutto che secondo me è molto bella per parlare di storia fra le molte cose che non ho ancora capito degli audiolibri c'è la possibilità o meno di utilizzarli anche per studiare e per imparare mentre sono abbastanza sicuro che l'audiolibro fa compagnia ed è uno straordinario strumento da usare in tutti quei casi in cui in realtà noi vogliamo vogliamo la voce non voglio dire in macchina quando siamo fermi nel traffico ma insomma di fatto è soprattutto in quei casi lì che io sento la radio per esempio e sono felicissimo di sentire la radio in quei casi e sarei felicissimo penso di sentire un audiolibro quando si tratta di imparare di ragionare su qualcosa invece io non sono così sicuro che funzioni però è vero che la voce può anche avere un effetto ipnotico non so se ci sono ancora quelle cose che c'erano quando io ero bambino sulle riviste di terza categoria si pubblicizzavano metodi per imparare l'inglese dormendo per esempio con l'idea che mettevi sotto il cuscino la cassetta e a quel punto automaticamente il tuo cervello registrava ecco può darsi che effettivamente le cose restino quando le hai sentite anche se non ci hai ragionato su per niente io penso che se a scuola si facesse certo non si può far sentire forse tutto però alcuni pezzi con questo solo libro capisci cosa è stata la prima guerra mondiale capisci tutto di quello che è accaduto perché non è solo caporetto c'è tutto un mondo che per un ragazzo può essere molto affascinante invece come comprensione di quello che è successo ma anche come comprensione di che cos'è la guerra in ogni tempo da l'allora che si tratta di che cos'è la guerra che cos'è la guerra per un ragazzo di quello che è che cos'è la guerra in ogni tempo si tratta c'è la guerra